Antonio Bernardi, allora, riapre il Filippino, locale storico, 113 anni di storia, una tradizione che si rinnova, no? E da stasera si ritorna alla grande. Intanto buongiorno, grazie per la tua attenzione, sì, 113 anni di storia, con me la quarta generazione, come ben sai, riapriamo stasera, quindi siamo positivi perché presumo che sia anche una stagione molto floria, nonostante quello che accade attorno a noi, che tutti conosciamo e quindi siamo tutti sommersi da aumenti, problemi vari. Dico, ma non ci scorangiamo, andiamo avanti, più forti di prima, che dirti? Quali novità presenterà il Filippino quest'anno? Il mio staff sta lavorando molto sulla creazione di nuovi piatti, rimanendo sempre vicini a quella che è l'unicità dei nostri prodotti eoliani e alla tipicità soprattutto di quello che è la nostra cucina, quindi questo te lo posso svelare man mano in corso d'opera. Ma c'è già un qualcosa, un segreto che puoi svelare? Abbiamo già in fase di strutturazione il nuovo piatto del Buon Ricordo, ci stiamo lavorando molto, non posso darti molti dettagli, ovviamente perché è in prova, ti devo dire che i miei collaboratori sono molto carichi, molto agguerriti, diciamo così, e quindi ti dirò in seguito, alla prossima intervista magari ti farò anche vedere un piatto. Si avverte un po' la pesantezza della responsabilità nel portare avanti un locale come questo, che è un museo, diciamo, dell'enogastronomia eoliana? Ecco, questa è una bella domanda, diciamo che la responsabilità è notevole, anche perché non posso permettermi di sbagliare perché non è un semplice ristorante, ma è un ristorante dove c'è racchiusa tutta la storia e quindi oggi sono io a dover testimoniare che la storia va avanti e continua, quindi ho un grande senso di responsabilità. Ed è una storia che per certi versi deve far da traino anche a quella, diciamo, anche recente delle olie, insomma questa è un'attività che viene riconosciuta, ha un certo prestigio, quindi mi riferisco anche a quello quando parlo di responsabilità, in un contesto poi, direi Antonio, a livello turistico, che sì, magari potrà avere delle soddisfazioni quest'estate, la prossima estate, però come lo vedi in particolare? Mi sembra un momento un po' confuso. Allora, è un momento molto delicato, credo che ancora non siamo alle olie in grado di accogliere veramente quello che è il flusso turistico perché siamo molto ma molto indietro, sicuramente perché non c'è anche, credo da giovane ti dico che non c'è forse unione tra quella che è la fascia imprenditoriale e la politica odierna, quindi pecchiamo su tanti aspetti, ecco io giro molto quindi mi rendo conto che veramente siamo troppo troppo indietro. Ciò non toglie il fatto che le olie sono sempre gettonate dico perché abbiamo sette piccole perle, il paradiso è qui, però rischiamo negli anni di essere accantonati perché non siamo all'avanguardia non siamo all'avanguardia, dobbiamo lavorare tanto su questa. Da giovane imprenditore, da giovane insomma, se vogliamo, esperto di turismo pure, che suggerimenti vuoi dare insomma a chi ci amministra? Guarda, cosa dirti, ti posso ripetere quello che ripetiamo ogni giorno ognuno di noi, dobbiamo puntare sicuramente sui trasporti dobbiamo puntare sicuramente su quello che è la situazione portuale e qualcuno ora sicuramente dico per quello che sto per dire mi additerà ma non importa, io credo che l'ala rotante è il futuro delle olie, non abbiamo un aeroporto, questo ci penalizza un piccolo aeroporto alle olie sarebbe un trampolino di lancio, sarebbe veramente un sicuramente una parte di soluzione per destagionalizzare le isole, credimi e lo sai anche tu che oggi in un'ora arriviamo in qualsiasi altra parte e in un giorno arriviamo all'Ipari quindi se non puntiamo su questo secondo me rimarremo sempre fermi, veramente, a parte dico situazione e trasporti che siamo veramente proprio molto ma molto in basso Grazie Antonio, speriamo bene, in bocca al lupo a te e a tutto lo staff del Filippino per la nuova stagione Grazie a voi, vi aspettiamo allora, grazie